Per i PM della procura erano loro a gestire un cospicuo giro di droga concentrato nella zona del centro storico. I militari della guardia di finanza portarono avanti l'attività investigativa focalizzando l'attenzione su un gruppo di giovani. In settimane il gruppo del tribunale minorile di Caltanissetta ha disposto il rinvio a giudizio per due di loro. La procura locale invece ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato per altri tre coinvolti, tutti i maggiorenni. Si tratta di Arnaldo Peritore, Christopher Schembri e Salvatore Costa. In base alle contestazioni avrebbero fatto parte a pieno del gruppo di pusher dalle indagini emerso che gli introiti economici sarebbero stati notevoli. Davanti ai giudici dovranno presentarsi a fine settembre. I tre sono difesi dai legali, Flavio Sinatra, Angelo Caffa e Carmelo Otuccio. Sono sottoposti a misura, gli inquirenti hanno monitorato almeno fino all'aprile dello scorso anno centinaia di episodi di spaccio di droga, tutti indebitati ai giovani coinvolti. Schembri una settimana fa è stato destinatario di un altro provvedimento restrittivo in un'indagine sul tentato omicidio di Capodanno in via Petrarca. Anche uno dei minori, rinviato a giudizio per l'inchiesta antidroga, è coinvolto nell'indagine sul tentato omicidio. Fu lui a sparare in direzione di un trentenne rimasto ferito.